Ciao Matteo, come sta andando il ritiro? Vi state allenando molto intensamente tutti i giorni doppie sedute? Sì, sì, assolutamente sì. Molto bello aver ripreso, aver ricominciato e stiamo lavorando bene anche se è solo da pochi giorni, però ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Quanta voglia c'è di inaugurare la tua quarta stagione con la maglia dell'Inter e quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono sempre gli stessi degli anni scorsi, puntiamo sicuramente al massimo perché quando giochi per un club così importante come l'Inter gli obiettivi devono essere quelli e sicuramente lavoreremo per questo. Sei diventato uno dei punti fermi di questa squadra e grazie alle tue prestazioni a 33 anni si è anche riuscito a riconquistare la maglia della nazionale a distanza di sei anni dall'ultima volta. Credo che sia motivo di orgoglio questo per te. Sì, assolutamente sì perché comunque prima di tutto quello che conta è fare bene con il club, quindi con l'Inter e cerco sempre di venire al campo giorno dopo giorno per migliorare e sicuramente è stata anche una nota positiva dello scorso anno essere tornato in nazionale. Da quando sei arrivato all'Inter ti sei sempre messo a disposizione della squadra, del mister, anche andando incontro alle esigenze tattiche che magari potevano cambiare. Ti chiedo come sei riuscito ad adattarti al nuovo ruolo? Ma con tanto lavoro, poi con i miei compagni è stato anche facile, io ho cercato sempre di dare il massimo e sono contento perché è andata bene. Grazie Grazie a voi